Su web arrivano molte richieste da parte di precari LSU e LPU. Qual è la risposta del Presidente Oliverio, candidato alla Regione? La risposta è che bisogna lavorare per stabilizzare. Il precariato deve essere un obiettivo da cancellare. Bisogna farlo con determinazione, aprire un confronto chiaro con il Governo del Paese perché si assumano con coerenza iniziative per consentire alla Regione di stabilizzare. È stata già destinata una somma che bisogna utilizzare. La Regione deve fare il piano di stabilizzazione e bisogna lavorare per realizzare questo obiettivo. Grazie a tutti.